La situazione meteorologica sulla nostra regione vede l'affermazione di un promontore di alta pressione di origine mediterranea. Esso confliggerà con una depressione presente sulla Europa centrale. Nella convergenza tra le due si trova la nostra area alpina che vedrà dell'instabilità pomeridiana, mentre su Pino Re Costa il tempo sarà più stabile. Sabato a 15 ore in genere sereno o poco nuvoloso su Pino Re Costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna, specialmente di pomeriggio, quando sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale. Temperature in aumento con massime fino a 30 gradi sulla pianura intorno ai 25-27 lungo la costa, con borino al mattino e la sera, venti di brezza invece nel corso della giornata. Domenica analogamente avremo cielo in genere poco nuvoloso su Pino Re Costa, qualche velatura in più specialmente in giornata, in montagna variabile con la possibilità di locali rovesci o temporali sempre nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie ancora di stampo estivo venti a regime di brezza. L'inizio della prossima settimana vedrà un incremento dell'instabilità dovuta all'arrivo di correnti sud-occidentali più umide e instabili in quota. E dall'osservatorio metro dell'ARPA Arturo Pucillo vi saluta.